ciao a tutti oggi vediamo una nuova ricetta finalmente da fare sul barbecue nuova più che altro per me perché la cucinavo anch'io per la prima volta e parliamo della picagna quindi questa preparazione tipica della cucina brasiliana se vogliamo è un taglio di bovino io non cucino molto spesso avete visto dai miei video carne di manzo carne di bovino ma non perché non mi piaccia ma più che altro perché tra i miei commensali c'è sempre qualcuno che storce il naso se vede la carne al sangue a me mi girano quindi ma non divaghiamo allora il taglio in questione in italia prende come spesso succede diverse denominazioni punta d'anca punta di sottofesa codone potete trovarla chiamata in diversi modi ma spesso io ho visto si trova già etichettata come picagna anche da noi quindi è un taglio che viene dalla parte posteriore alta del bovino diciamo di forma triangolare di solito è un chilo un chilo e cento non di più come peso infatti quella che ho preparato io era un chilo 120 qualcosa del genere è caratterizzata per avere sulla superficie di un lato un strato di grasso di circa un centimetro grasso che non va assolutamente rimosso prima di cucinarlo ma lasciato poi il limite se uno non lo vuole mangiare non lo mangia però va lasciato come si cucina allora se vogliamo seguire la tradizione brasiliana se siete mai stati in un ristorante brasiliano lo sapete lì viene cucinata allo spiedo infilata su queste spade a mo di spiedo viene tagliata in grosse fette e vengono appunto infilzate lasciando il grasso all'esterno e cucinata allo spiedo poi affettate direttamente in tavola tipo kebab quindi se avete un girarrosto non spiedo sapete come fare se non ce l'avete come me ci sono diverse possibilità qualcuno dice che si può cucinare a cottura diretta anche io sono un po scettico su questa cosa perché visto lo strato di grasso che c'è avrete comunque molto grasso che cola quindi molte fiammate che probabilmente diventano un po difficili da gestire però fatemi sapere se voi l'avete mai fatta a cottura diretta insomma lasciatemi un commento magari mi sbaglio io l'ho fatta a cottura in diretta e è così che vi spiego come fare e che vi consiglio di fare quindi pezzo intero cottura in diretta semplicissimo proprio una ricetta che che si fa praticamente da sola come preparazione della carne a parte tirarla fuori dal frigo un'ora due prima di cucinarla per farla tornare un po a temperatura ambiente io sono voluto rimanere molto semplice quindi ci ho messo sopra solamente un filo d'olio sale abbondante sale e un po di pepe nient'altro nulla vieta di sbizzarrirvi con rab più complessi marinature vedete voi ho voluto fare una cosa un po più vicina alla tradizione se vogliamo dire ho acceso il mio barbecue quindi classico setup da in diretta vi consiglio di mettere una vaschetta d'alluminio io ho messo dei fogli ma visto che collerà parecchio grasso meglio una vaschetta nella nella zona sotto sotto alla carne ho usato della carbonella normale tanto la cottura non è tanto lunga ne ho acceso un tre quarti di cesto ma sarebbe bastata anche meno a dire la verità la dobbiamo cucinare una temperatura sui 160 170 gradi e cosa importante è avere un termometro da utilizzare per vedere poi il grado di cottura per sapere esattamente quando la carne è cotta al punto giusto punto giusto che deve essere un po un po sangue insomma una cottura media tendente al sangue io consiglio 55 gradi questo è quello che ho fatto io e ho visto che è venuta bene per i miei gusti poi ovviamente potete fare qualche grado in più qualche grado in meno a seconda dei gusti vostri come come la preferite io ho iniziato passandola velocemente a cottura diretta sopra le braci per cauterizzare un po tutte tutti i lati fare un searing se vogliamo dirla all'inglese e e poi l'ho spostata appunto a cottura in diretta ho messo la mia la sonda del mio termometro e l'ho posizionata con il lato più spesso della carne perché appunto ha una forma un po irregolare come dicevo c'è un lato che un po più spesso quello più largo ho rivolto questo verso le braci e lasciando il grasso in alto e l'ho lasciato così fino a raggiungere la la temperatura interna appunto di 55 gradi non ci è voluto molto una mezz'oretta o poco più è vero che io avevo la temperatura anche un po troppo alta soprattutto all'inizio schizzata anche verso i 190 poi l'ho fatta abbassare però appunto una mezz'oretta e la carne era pronta l'ho tolta dal fuoco quindi l'ho lasciata riposare dieci quindici minuti a volta nell'alluminio poi non resta altro che che affettarla e servirla il risultato mi è piaciuto mi è piaciuto molto carne tenerissima che veramente si scioglieve in bocca gustosa non saporitissima è un taglio che rimane comunque abbastanza delicato quindi anche se volete mettere marinature rabb cose del genere ecco magari non non andarci molto pesante per non coprire completamente il gusto della carne comunque sicuramente una buona preparazione come avete visto facilissima è impossibile da sbagliare perlomeno se avete un termometro quello ribadisco molto importante se non fondamentale questo è tutto non mi resta che salutarvi aspetto i vostri commenti qua sotto fatemi sapere se anche voi cucinate avete cucinato questo taglio di carne e noi ci ci vede alla prossima ciao a tutti